C'è anche Francesco Pacenza, tra i maestri della fotosub italiana inseriti nella collana Scatti Sommersi, diretta da Angelo Mogietta per Magans Editoriale. Pacenza, Calabrese di Altomonte, è tra i più apprezzati fotografi dei fondali marini. Un talento ed una qualità riconosciuti nelle presentazioni firmate da altri tre giganti mondiali della fotografia subacquea, Settimio Cipriani, pentacampione mondiale della specialità, Amos Nahum e Imran Hamad. Il volume è stato presentato a Bologna nell'Università della Fotografia. Cosa c'è nelle profondità delle acque? Noi conosciamo del cosmo molto più di quando possiamo conoscere dei fondali marini. I fondali marini sono qualcosa di incredibile. La varietà di vita, i colori, le forme viventi che sono sott'acqua non hanno termine di paragone con ciò che c'è sulla terraferma. I fondali calabresi tra tutte le località del Mediterraneo sono sicuramente tra le più belle, tra le più ambite sia dai subacquei normali che dai fotografi subacquei. Prossimi obiettivi? Ce ne sono tanti. Uno dei viaggi che mi piacerebbe fare è quello di andare a fotografare le orche. Salvatore Bruno per la Cineus 24.